Oh, vediamo un po' queste robette qua. Il sugo squisito. Se ci fosse più un napoletano mi invidierebbe. Brava. Io non faccio un cazzo, me la scavo sempre. Com'è che sarà? Saranno troppo furba. E queste melanzane le ha avanzate queste qua? E qui non si deve consumare niente. Queste qua dove le lasci? Ma no, perché con i semi non si mettono soccartiglie. Buttiamo via quelli, vai. Ma cosa dici? Le melanzane, il più pronto delle melanzane è nel mezzo. Lei tira via il mezzo, cioè ci lascia. La pelle che dura. Ma quale pelle che dura se l'ho levata la pelle? Ma che dici? Oglia, oglia. Orietta, fanno bollire senza coperchio. Così si ritira. No, no, no. Guarda che siamo in sei. Un sugo così. Dicchiatemi, è prima di sera. Tu hai detto che fassi via cuoca a Buenos Aires? Sì. Bambini.